Grazie a tutti e a tutte voi, a tutti i referenti, i responsabili, i direttori, i operatori dei musei che si sono collegati per questo incontro di lancio e di presentazione della seconda finestra aperta per accedere al percorso di accreditamento al sistema museale regionale, ma quindi anche conseguentemente al sistema museale nazionale, perché da oggi fino al 30 novembre sarà data la possibilità di accedere al questionario presente sulla piattaforma, nel questionario di autovalutazione rispetto ai livelli uniformi di qualità e agli obiettivi di miglioramento che ormai abbiamo imparato a conoscere. Io faccio solo una breve introduzione perché poi questa mattinata prevede l'intervento di Maria Pia Guermandi, di Beatrice Orsini e anche di Erika Catalano, di Diame Cultura, che saluto e ringrazio in questo momento anche tutto il gruppo del sistema museale del nostro settore patrimonio culturale che è assiduamente impegnato in queste attività di accompagnamento nella vita, speriamo appunto dei nostri numerosi e variegati musei, istituti museali. Vi dicevo alcune note introduttive che vogliono essere semplicemente un aggiornamento rispetto a quello che stiamo vivendo del sistema museale nostro regionale nel più ampio contorno e contesto del sistema museale nazionale. Come sapete la prima campagna di accreditamento che si è svolta a cavallo tra il 2021 e il 2022 ha portato per la nostra regione un accreditamento di 102 musei. Immaginiamo appunto dalle iscrizioni a questa presentazione che ci siano ovviamente dei musei che hanno già provato ad accreditarsi senza raggiungere appunto il risultato sufficiente per l'accreditamento e che giustamente in maniera appunto molto molto flessibile si ripropongono perché hanno avuto modo di lavorare su quelli che sono gli aspetti che non avevano consentito nella precedente finestra l'accreditamento. Ci sono anche nuovi, si affacciano nuovi istituti museali all'accreditamento che per noi è un percorso oggettivamente importante. È inutile nascondersi sul fatto che il sistema museale a livello nazionale abbia avuto uno sviluppo un po' ondulato tra alti e bassi e che devo dire anche penso potendo confermare anche le colleghe noi della regione Emilia Romagna stiamo davvero cercando di stimolare insieme ai rappresentanti delle altre regioni il livello nazionale perché si rimetta oggettivamente in moto e sostanzialmente in moto il meccanismo del sistema museale nazionale di cui i musei a livello nazionale sentono l'esigenza soprattutto per cercare di arrivare a costruire una comunità nel rispetto delle specificità ma una comunità che possa consentire di monitorarsi periodicamente sui livelli di qualità raggiunti nel servizio al pubblico, nella gestione delle collezioni, nell'organizzazione, nel monitoraggio anche legato alla formazione permanente degli operatori. Il sistema museale nazionale è un meccanismo complesso noi come regione Emilia Romagna abbiamo comunque deciso di farlo nostro e di in certo qual modo cercare a livello regionale di sviluppare quegli aspetti del sistema che ci consentono come settore patrimonio culturale di offrire gradualmente compatibilmente con i limiti oggettivi e soggettivi che anche noi come tutti abbiamo di accompagnare la vita dei nostri musei. Io credo che appunto a partire dal 2019 quando ancora c'era l'Istituto dei beni culturali ma anche successivamente per tutto il 2021-2022 il nostro rapporto con voi, con i musei della regione è stato continuo focalizzato su alcune tematiche più che altre, su alcune tematiche come appunto la digitalizzazione, come l'accessibilità come il significato e l'approfondimento appunto dei livelli uniformi di qualità questo per significare un accompagnamento che non pretende di avere la soluzione in tasca per tutte le problematiche dei nostri musei che sappiamo essere tante e anche aggravate come sappiamo in questo ultimo periodo da oggettive difficoltà che portano a guardare con molto timore anche la possibilità di tenere aperti ordinariamente i nostri musei per l'aumento delle spese appunto delle utenze e il problema del personale che è ormai cronico. Comunque vi dicevo a livello del coordinamento delle regioni e anche attraverso gli appuntamenti di cui noi ci siamo fatti in parte promotori e in parte coprotagonisti e sto pensando al Salone del Restauro con la nostra giornata dedicata appunto ai musei oltre a quella dedicata alla conservazione e al restauro fortemente integrata con la vita dei musei anche questa sto pensando alle recenti giornate di Luca a Lubec dove appunto il tema dell'accessibilità che ci ha visto portare avanti un progetto importante che vi ha coinvolto tutti almeno nella prima fase con il questionario ha voluto dimostrare a che punto siamo nel percorso di approfondimento di queste tematiche ma nei termini di una puntualizzazione di strategie di politiche culturali sempre più incanalate in questa direzione ecco questa seconda finestra di accreditamento è per noi parte integrante di questo percorso perché significa entrare ancora più nel vivo di quelle che sono le necessità, i fabbisogni dei nostri musei una possibilità incredibile di conoscere, di fare una fotografia aggiornata dello stato dell'arte e di un buon numero ancora di musei e di decidere in quale modo accompagnare i percorsi di miglioramento che per noi sono validamente da considerare sia nei confronti dei musei che fino a questo momento siamo riusciti ad accreditare ma sia nei confronti anche dei musei che ancora l'accreditamento non l'hanno raggiunto quindi il tema che oggi affrontiamo è quello di ripresentare ovviamente le modalità di partecipazione le caratteristiche di nuovo del questionario e anche le modalità proprio operative di compilazione ci siamo dati molto da fare insieme alla DM Cultura per aggiustare, mettere a punto quelle che erano ancora degli elementi operativi non ottimizzati nel primo percorso come sapete una volta chiusa la finestra disponibile per la compilazione del questionario appunto al 30 di novembre alle ore 13 mi pare, forse ricordo male, no, non me lo ricordo a che ora si chiude ma la data sì è giusta, 30 novembre, inizierà di nuovo una fase istruttoria di approfondimento, di richiesta di integrazioni, anche se necessario dei sopralluoghi, di incontri con i referenti con voi appunto per cercare appunto di definire al meglio la fisionomia del museo che si presenta per l'accreditamento e con l'inizio dell'anno prossimo daremo vita anche a un percorso di formazione che molto probabilmente vedrà continuare i temi appunto della gestione delle collezioni con ancora il corso di riorganizzazione dei depositi, il tema dell'accessibilità e della digitalizzazione ci accompagneranno ulteriormente e inseriremo sicuramente in modo più sistematico e lo abbiamo appunto in fase di elaborazione in quest'ultimo scorcio dell'anno il tema delle reti museali che riteniamo debba essere affrontato in maniera esplicita anche per venire incontro a delle realtà museali medio piccole o anche molto piccole che probabilmente da qui agli anni futuri da soli possono non avere più quelle caratteristiche per potersi sostenere autonomamente. Vi volevo anche dare un aggiornamento per quanto a nostra conoscenza a livello regionale rispetto all'istruttoria, allo stato di avanzamento dell'avviso del PNRR, l'avviso pubblico che si è chiuso con la presentazione delle domande del 12 agosto riguardante appunto la rimozione delle barriere di ogni tipo per i musei e i luoghi della cultura, abbiamo avuto conferma dalla direzione generale musei di un altissimo numero di domande pervenute, sono circa 1300 da considerare complessivamente tra i musei pubblici non statali e i musei non pubblici. La commissione si è insediata, c'è inserito anche un commissario rappresentante nominato o designato dalla conferenza delle regioni che è Marcello Tagliente e dicevo la commissione si è insediata, ha cominciato a lavorare all'inizio di ottobre e verosimilmente potremmo avere qualche aggiornamento utile credo non prima della fine di quest'anno e forse anche l'inizio dell'anno prossimo. Sappiamo che molti dei nostri musei si sono candidati, nostri intendo dire che chiaramente presenti sul territorio regionale, questo ci fa molto piacere, abbiamo anche offerto un accompagnamento se ricordate con due pillole formative ai musei per la predisposizione delle domande e anche questo fa parte appunto del pacchetto formativo. Io chiudo qui e ringrazio di nuovo Maria Pia, Beatrice, Silvia, Barbara, Matteo e Gabriella, il gruppo del sistema museale regionale che è attivo e continua ad accompagnare e ad assistere i nostri musei. Ringrazio di nuovo anche Erika Catalano e passo la parola a Maria Pia.